Indovina chi viene in radio. Buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, raffreddadissimo ma comunque in piedi per fortuna e buongiorno anche ad un grande amico di Radio Amore, collaboratore lo possiamo dire fieramente, nonché spesso nostro addetto stampa, Peppe Giorgio, buongiorno Peppe. Buongiorno a te Antonio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Amore. Chi conosce il nostro amico Peppe sa che si districa in tutti i campi dello spettacolo ma anche dell'enogastronomia, anzi ti volevo fare una domanda, perdonami, come fai a mantenerti sempre bene in forma? Io se avessi il tuo ruolo sarei una botte, ti dico la verità. Ma il primo segreto è mangiare bene, quindi mangiare cose buone ma di qualità e poi fare tanto tanto movimento. Ecco appunto a proposito di mangiare cose belle e buono, noi abbiamo l'ospite di quest'oggi che lascia a te il pregio di presentare perché parliamo di uno che appartiene ad una famiglia che ormai da quasi 100 anni ha prodotto e ha sfornato, in caso di dire, pizze a volontà. La matrice iniziale era il gruppo, diciamo, familiare Moffa Leone che dal 1923 hanno fatto pizze. La vecchia pizzeria Trianonne è quella che ha dato vita a questa grande dinastia di pizzaioli. È caso di dire, però lascia a te ovviamente tutte le possibilità di illustrare ancora, voglio dire, i pregi dell'ospite che abbiamo oggi qui con noi. Ma obiettivamente in questa pizzeria, che stava proprio di fronte, sta tuttora di fronte al teatro Trianonne, passavano ovviamente tutti i grandi attori di rivista perché ovviamente avevano due scelte all'epoca e tuttora ce l'hanno. O Michele o il Trianonne, quindi magari senza far pigliacolare a nessuno. Una volta andavano da Michele, una volta andavano al Trianonne. E parliamo di gente come Totò, Macario, Nino Taranto e chi ne ha più ne metta. Peppe, a te il piacere di presentare il nostro ospite. Un piacere davvero grande perché in un colpo solo posso presentare un grande amico e un grande rappresentante di quella Napoli fatta di cose buone e di tradizioni. Di quella Napoli che con le sue specialità culinarie affonda le radici nella storia. Perché storia si tratta, quando io parlo di un personaggio come Giorgio Moffa. Giorgio Moffa che è qui con noi questa mattina e che lui, come hai detto tu, è l'erede spirituale di una famiglia che ha scritto a grandi lettere a Napoli la storia della pizza. La storia di questa specialità, emblema del popolo napoletano, di questo prodotto, di questa bontà che è meglio di tutte le altre, forse anche più del ragù e di tante altre specialità, rappresenta la vera essenza del popolo napoletano. Un popolo da sempre amante delle cose buone, un popolo storicamente povero che grazie alla pizza, grazie a questa specialità riesce addirittura a prendersi una rivincita sui ricchi con un prodotto che pur costando poco riusciva a mettere insieme trasgressione, filosofia, bontà eccetera. E in questa filosofia del popolo napoletano ecco, vi è quel novero di rappresentanti storici che attraverso i secoli hanno tramandato fino ai giorni nostri la grande tradizione della pizza, le antiche regole di questo prodotto davvero speciale. Tra questi sicuramente, come hai detto tu, erede dei fondatori di uno dei luoghi simbolo della pizza, c'è il nostro Giorgio Moffa. Giorgio, raccontaci la tua storia. Benvenuto qui a Rademure, innanzitutto. Grazie, buongiorno a tutti. Eh vabbè, diciamo che tu hai fatto giustamente una sintesi di quello che oggi è il mondo della pizza. Mio nonno Ciro è stato il fondatore insieme alla moglie Giorgina della famosa pizzeria Trianonna in via Pietro Colletta. Quindi diciamo che nell'ambito familiare noi essendo nati proprio in quel palazzo siamo vissuti, cresciuti e quindi abbiamo respirato da piccolissimi l'aria della pizzeria. Il profumo della pizzeria. Il profumo quindi con queste diciamo belle cose che si usavano una volta che erano insomma i nonni che preparavano gli impasti, i pizzaioli e tante altre cose belle. Senti ti faccio una domanda subito Giorgio. In effetti però la Trianon si differenziava un pochettino all'epoca dalle altre pizzerie perché mentre quelle lì rimanevano ancorate alla tradizione e quindi proponevano diciamo giusto due tipi di pizza. Voi avete cominciato a sperimentare quindi a fare pizza a più ampio raggio. Io ricordo ma non voglio sbagliare che facevate ancora una pizza cioè sperimentaste negli anni 80 una pizza a otto gusti se non ricordo male. Sì quella è una pizza che nacque nel 78. Io già ne facevo parte perché studiavo e lavoravo perché il mio sogno da bambino era quella di continuare questo bellissimo lavoro che per fortuna poi abbiamo fatto. Quella pizza nacque un po' perché fu un gioco un gioco dove mio zio Pasquale il fratello di mia mamma in sintesi scherzando disse al pizzaiolo dell'epoca Salvatore e Damiano due grandi che purtroppo non ci sono più disse ma noi facciamo queste quattro stagioni perché non proviamo a farne uno magari mettendoci qualche strisci in più e ci mettiamo tutte cose a coppia le sue parole e quindi nacque questa pizza che in pratica era una sintesi tra la quattro stagioni e una rivoluzione cioè otto spicchi di pizza dove si poteva assaggiare di tutto cioè dal fior di latte il prosciutto il salame le olive le acciughe i funghi cioè su quella pizza nacque veramente una rivoluzione perché veramente era un piatto che si stava bene tutta una giornata insomma. Peppe a te. Ma sì vorrei anche precisare oltre alla tradizione che Giorgio Moffa porta nel cuore la sua capacità sempre parlando di pizza di essere un pioniere. Giorgio Moffa che attualmente già da molti anni ha trasferito l'arte della pizza a Gaeta nel rinomato apprezzatissimo locale Ciro a Gaeta 1923. Lui è stato come dicevo un pioniere. Giorgio Moffa partendo da questo nome storico Trianon ad esempio negli anni 80 è stato il primo a trasferire tra gli altri la pizza in un quartiere aristocratico della città come il Parco Margherita. Ancora Giorgio Moffa è stato il primo ad ideare la consegna della pizza a domicilio ed è stato il primo addirittura trasferendosi nella capitale a creare la prima catena di pizzerie in franchising. È vero Giorgio? Sì hai detto benissimo. Dicevamo che noi da giovani frequentavamo Piazza Medeo, Piazza San Pasquale. Era un po' il ritrovo di tutta la movida partenopea in quegli anni. Ci accorgemmo che una vera pizzeria storica mancava nonostante ci fosse qualche nome importante però era prevalentemente più indicato come ristorante che come pizzeria. Quando noi individuammo quel locale al Parco Margherita veramente fu un inizio di un nuovo mondo di concepire la pizza. Perché? Perché ci portammo quella che era la pizza storica, il nome storico importante dove era nato ai tribunali e in più ci affiancammo il vero mondo della cucina napoletana di mare e di terra. In più facevamo i dolci fatti in casa, gli antipastini, c'erano pizze rivoluzionari all'epoca perché parliamo di 32 anni fa come i gamberetti, il salmone, insomma veramente fu un nuovo modo di vedere la pizzeria. Dico bene la pizzeria perché? Perché prima le pizzerie erano un po' quelle del centro storico dove c'era il tavolino di marmo, un servizio veloce perché quello era la sintesi che coniugava il popolo con la pizza. E noi ci accorgemmo invece che la pizzeria doveva essere anche un luogo elegante, dove metterci una bella posata, un bel piatto di ricciarginori, mettere una tovaglietta di stoffa, incominciare a mettere delle divise eleganti ai camerieri. Incominciamo a ragionare e a valorizzare la pizza e questo fu veramente un'idea vincente perché poi dopo molti ci seguirono e sono nate poi le varie catene che hanno un po' portato la pizza nel mondo. Peppe, io mi viene da fare una riflessione, quindi con questo passaggio c'è un po' la nobilitazione di questo prodotto che chiaramente rimane un prodotto popolare ma che è nelle condizioni, l'ha dimostrato nei fatti, perché la pizza è l'alimento più mangiato al mondo, ha dimostrato che appunto non era relegato ad una zona storica della città ma poteva aprirsi al mondo intero. Io, ecco, siamo nel momento in cui dobbiamo dare la linea alla pubblicità, ma dopo ripieniamo questi discorsi anche magari facendo un approfondimento un pochettino diciamo critico su certe situazioni di successo negli ultimi tempi, ma chi se non con Giorgio può darci ecco una dritta su queste cose. Indovina chi viene in radio Da Euronics Gruppo Tufano, ultimi giorni per i maxi sconti, ma affrettati, hai tempo solo fino al 5 marzo. Qualche esempio di maxi sconti? Notebook HP con un tera di hard disk e 4 giga di RAM. Da 449,99 a 349,99 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani. Via soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net Lasciati conquistare dalla qualità e dall'eleganza di Punto Zero Uomo. Abiti da sposo e cerimonia, con taglie e prezzi per tutti, a partire da 180 euro. Collezioni sempre in linea con le nuove tendenze e capaci di esprimere l'originalità di chi le indossa. Punto Zero, vieni a provare i nostri modelli e vedrai da vicino che sono capi raffinati d'alta moda, realizzati in modo sartoriale da mani esperte e il nostro personale è pronto a dedicarti consulenza e professionalità per aiutarti a scegliere l'abito più speciale per il tuo evento. Punto Zero Uomo. Grazie alla nostra esperienza e capacità di produzione, riusciamo ad offrirti abiti da sposo e cerimonia a partire da solo 180 euro. Punto Zero, un solo grande punto vendita e tantissime idee con abiti originali, prestigiosi e indimenticabili. Chiama adesso per un appuntamento oppure se vuoi un'anteprima vai sul sito www.zeromoda.it, scegli il tuo abito e vieni subito a provarlo da nome. Punto Zero Uomo. Basta spendere troppo per avere qualità ed eleganza. C'è punto zero, punto zero, punto e basta. Per la tua pubblicità sul Radio Amore, chiama allo 081 195 77 330. Indovina chi viene in radio. Ebbene rieccoci qua dopo la pubblicità. Giorgio ti voglio fare una domanda che a me incuriosisce tra le altre cose ma fa anche piacere. Il pizzaiolo diciamo fino a 20 anni fa era un artigiano come poteva essere un fabbro, un falegname. Oggi è un artista. C'è un riconoscimento dell'arte del pizzaiolo che hanno fatto sì che sono venute fuori delle vere star diciamo. Ormai il pizzaiolo importante gira il mondo intero a dimostrare la bontà, diciamo le caratteristiche della pizza. Diciamo che è un momento di grande successo. È arrivato anche il riconoscimento deguiresco. Per cui obiettivamente siamo veramente avanti. Ecco, voi siete coscienti di questo ruolo importante che avete assunto anche da un punto di vista sociale, culturale? Sì, perché la pizza noi dobbiamo comunque individuarla come il vero emblema di Napoli. Secondo me la pizza è come dire Napoli. Nasce a Napoli col forno a legna, la stesura manuale del pizzaiolo. Quindi queste sono caratteristiche che ne fanno un prodotto unico. Sì, effettivamente oggi nel mondo dire pizza di qualità, quindi attraverso i pizzaioli napoletani che sono andati un po' in tutto il mondo, veramente hanno portato un prodotto che è anche un prodotto che appartiene alla cultura di un popolo. Quindi ci sono ancora pizzaioli che usano i vecchi sistemi. Quindi quali erano questi vecchi sistemi? Guardare il tempo. Si faceva freddo, si faceva caldo, se era umido, se pioveva. Tutto questo ne facevano delle caratteristiche molto importanti. Perché questo? Perché poi il pizzaiolo si doveva adeguare ai tempi, i tempi di lievitazione. Si faceva troppo freddo, metteva un po' di lievito in più, faceva un impasto un poco più morbido. Se faceva troppo caldo, diversamente, metteva meno lievito, aggiungeva un po' di farina. Quindi diciamo, esaltare oggi il pizzaiolo mi sembra un riconoscimento che l'UNESCO doveva dare perché veramente ci sono dei ragazzini che sono nati nelle pizzerie. Cioè da 7-8 anni fino a quando veramente un'età avanzata stavano in quell'ambiente. Quindi è un riconoscimento dovuto ad un popolo che ha creato un prodotto unico. Peppe. Sì, volevo anche dire che Giorgio Moffa, e qui giro la domanda direttamente a lui, appunto, parlando di salvaguardia di questo prodotto emblema culturale della società napoletana, lui è meritevolmente socio fondatore dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane alle Centenarie. Giorgio, parlaci di quest'altra esperienza. È un'esperienza che nasce di mettere insieme quelle famiglie storiche che hanno fondato veramente e hanno creato la storia della pizza a Napoli e nel mondo. Era un progetto che si parlava già da un po' di anni, quando poi giustamente c'è stata la sterzata di volerla fare, ci siamo riuniti un poco quelli che erano i rappresentanti delle famiglie e delle pizzerie storiche. Quindi insieme a me chiaramente ci sono i nomi che noi tutti conosciamo, come Antonio Starite che è il presidente, Salvatore Grasso della pizzeria Gorizia che è il vicepresidente, Alessandro Condurro di Michele che è il segretario e poi gli altri come Paolo Surace Matozzi, Antonio Pace di Ciro a Santa Brigida, i Lombardi, i Capasso, quindi veramente il gota delle pizzerie napoletane. Aggiungerei anche il grande Gennaro Luciano, la pizzeria più antica di Napoli. Mi sono dimenticato il boss. Abbiamo riservato per un tipo di 1738. Anche perché poi lui è il mio fratellone, non si è mai a dire, me lo dimenticavo. Lo salutiamo con grande affetto se ci sta ascoltando, Gennaro. Adesso sei andato a finire da Bungirovaco, diciamo, di questo grande prodotto a Gaeta. Io così mi viene istintivamente a dire Gaeta che per uno strano scherzo del destino si trova ad essere una città del Lazio. È una città campana, napoletana, a tutto diritto, cultura, dialetto, eccetera. Ed è stato l'ultimo caposaldo a cadere praticamente. Anzi mi pare che di recente, pochi giorni fa, c'è stato un bel raduno di Borbonici, di chiari amici miei, Figo Borbonici, per cui voglio dire la memoria storica che, ecco, nella pizza e nella storia è a Gaeta. Sì, tu non sai la guerra che faccio io ogni tanto che posto qualcosa e parlo di Gaeta come Napoli, perché quello era il prolungamento del Golfo di Napoli. Assolutamente. Qualcuno che, diciamo, molti riconoscono questo e giustamente ne riconoscono il merito. Alcuno delle nuove generazioni che non sanno che cosa era Gaeta per i napoletani, giustamente ancora si sentono diversamente laziali. Ma io sempre dico che quello è Napoli, quindi si parla ancora napoletano, chi ha un'età un po' più grandicella. E quindi rimane per i napoletani anche, giustamente, un luogo di mare vicino ad un'ora di macchina. È di uno di quei posti dove veramente ritroviamo delle spiagge meravigliose, mare sempre bello, prodotti di territoriale veramente unici come il pesce, tutti i prodotti collinari come gli oli, le olive di Gaeta che sono famose nel mondo. Stare lì è stato, tra virgolette, un po' un rischio perché tutti quanti dicevano, ma chi ha fatto a Gaeta? Quelli sono due misi. Invece noi per fortuna abbiamo una location molto bella. È stata con Gomeri Caboto? Sì, noi siamo proprio sul golfo di Gaeta. Abbiamo un locale bellissimo dove proponiamo una cucina e una pizza unica. Il nome esatto di questo tuo locale, Giorgio? L'antica pizzeria Ciro 1923. Ciro chiaramente perché era il fondatore, quindi il merito glielo dobbiamo veramente noi familiari tutti. E poi, ripeto, mancava anche lì una pizzeria storica, in quel posto, perché 7-8 mesi all'anno Gaeta da marzo ad ottobre è vissuta moltissimo dai napoletani, quindi una pizzeria di riferimento importante serviva. È stata una scommessa vinta, quindi, sotto questo aspetto. Senti, Giorgio, ti volevo fare quest'altra domanda. Ho detto prima un pochettino, diciamo, antipatica, però te la faccio. Il fatto di aver visto, diciamo, in maniera sgradevole prima l'attacco a Sorbillo, poi a Di Matteo, lascia la mano in bocca perché Radio Vicolo, noi, voglio dire, facciamo informazioni, approfondimenti, sappiamo che al di là di quelle che possono essere una serie di congetture. La verità è una ed è semplice. Lì vogliono il pizzo o vogliono aumentare, evidentemente, quello che già avevano ottenuto. Allora io dico una cosa. Colpire queste pizzerie storiche, non perché quelle non storiche non abbiano pari diritto, però significa proprio colpire la città. È un poco come quando tolgono dal braccio i Rolex, dal turista, gli danno anche una serie di mazzate. Io trovo una cosa antipatica e chi va veramente combattuta in maniera energica e senza sconti. Perché, ripeto, l'attacco ad uno come voi è l'attacco alla città. È la nostra storia. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Oggi, tra virgolette, io credo che sia anche un fatto, che possa essere, me lo auguro, un fatto sporadico, di ragazzini che tentano qualcosa per diventare grandi cerchi. Quelli di Saviano, per intendere. Ma sì, perché io credo che quelle sono istituzioni che alla fine nessuno tocca e nessuno vuole toccare, perché toccare quei locali sarebbe assurdo, tra virgolette, ma sarebbe anche un danno per chi lo pensa. Quindi io penso che sono sicuramente situazioni sporadiche. Io non l'aggancerei proprio a una, diciamo, una vecchia cultura, a un retaggio che io l'ho vissuto per intero. Io ho vissuto gli anni 70-80, che era le faite di Camorra, dove noi a un certo punto, alle 9-9 e mezza, dovevamo chiudere tutti quanti. Dovevamo chiudere perché si sentivano veramente un'aria bruttissima, colpi che si sentivano. Io mi ricordo che il centro storico era spettrale. La rivoluzione del centro storico c'è stata. Quindi noi la dobbiamo tutelare, dobbiamo pensare che sono atti sporadici e dobbiamo lavorare su questo concetto, perché se l'abbiamo vinta e se fosse una cosa seria, l'abbiamo vinta, sbagliamo tutta la categoria. Invece noi siamo vicini a questi ragazzi, quindi sia a Sorbillo che a Di Matteo siamo vicini, ma credo che loro devono rimanere fermamente lontano da dare qualche... tu prima parlavi di pizza. Io mi auguro che non ci sia mai stato. Io ricordo che ci fu un qualcosina anche con noi a Via Pietro Colletta, ma noi denunciammo e questi personaggi sparirono. Quindi io credo che vada fatto questo e io, ripeto, secondo me è un fatto sporadico. Quindi sono ragazzini un poco montati di cervello che alzano il tiro non rendendosi conto di cosa si fa in termini negativi. Ma credo che qui costato di badare una risposta, ripeto, senza sconti e assoluta, tanto per far capire che, ripeto, se tu metti in condizione questi artisti, perché oggi vi considero degli artisti, ad andare via, perché sono, diciamo, persone, imprenditori che hanno aperto anche altrove con successo. Questi, voglio dire, andando via creerebbero un danno economico. Tanti ragazzi che sono scelti molto spesso proprio dalle zone in cui voi avete sede. Insomma, io credo che veramente bisogna ragionarci prima di avvilire. Quindi diamo tutto il supporto possibile come cittadinanza e come, voglio dire, istituzione a che queste cose non abbiano più da accadere. Peppe? Beh, come dicono al telegiornale, a questo punto io direi che cambiamo decisamente argomento. E parlando di pizza, pizza buona, pizza mangiata, pizza legata ai grandi personaggi, beh, c'è Giorgio che ci può ricordare attraverso la sua esaltante carriera i suoi amici, a partire dall'inseparabile Maradona. Ora sai, ma io te ne avevo più capelli, eh? Non te lo ricordavo. Tanti capelli fa. Tanti capelli fa. Allora, sì, il Parco Margherita fu uno di quei locali dove giustamente il bel mondo artistico e sportivo veniva frequentato. Quindi c'erano tanti artisti, Dalina Sastri, Angela Luce, Pippo Baudo, Galeazzi quando veniva a Napoli e i calciatori tutti. Quindi c'erano Maradona, Alemao, Careca, De Napoli, Crippa che veniva un paio di volte a settimana. Quindi veramente quello fu uno di quei momenti che a volte noi non ci pensiamo. Però il Napoli campione d'Italia fu secondo me una forza per la città unica. Perché dal lunedì al sabato sera, perché prima giustamente si giocava la domenica, i locali, i ragazzi si vedevano solo per l'ansia della domenica e di parlare del Napoli, quello che succedeva, quello che poteva accadere. Quindi tenere una squadra che lottava per lo scudetto era veramente una forza prorompente per la città. Peccato che noi oggi non lo possiamo fare anche se siamo lì, ma è come se non ci stessimo. Questo è un altro argomento dovente. Perché siamo ad una vetta al secondo posto, però siamo davanti con una squadra irraggiungibili. Invece noi prima eravamo primi e dove gli altri ci seguivano. Per la città era un fermento. Io ricordo che quando chiudevo la pizzeria a Piazza Medeo, il giornalaio di via San Pasquale si facevano chilometri di file solo per comprare il mattino, per sapere le leudizie del giorno dopo. Quindi veramente fu un bel momento. Diciamo che oggi è cambiato tutto, anche dal profilo della comunicazione che è rapidissima, poi c'è molto, no, calcio ormai non c'è più tanto lo spettacolo quando il business, lo sappiamo bene, potremmo aprire un capitolo su questo argomento. Maradona che cosa preferiva come pizza? Maradona mangiava una pizza che solo lui si poteva mangiare. Era una diavola con tonno e cipolla. Quindi era una margherita con salame, peperoncino, tonno e cipolla. E questa era una pizza che lui, guai a chi la toccava, quando noi volevamo debbistarlo su altre pizze, lui, no, 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 perché diciamo era un po' anche il sunto del suo territorio, la cipolla, il forte del peperoncino, il salame. Sposava diciamo l'argentino con la moglie. Questa era la sua pizza. Siamo parenti prossimi, lo possiamo dire. Peppe, a te anche la chiusura ecco di questa simpatica chiacchierata con Giorgio Moffa. Giorgio Moffa con noi questa mattina ha portato, anche se solo virtualmente, l'amore per questa arte sinonimo di una Napoli buona, di una Napoli ancora una volta, non dimentichiamole in memore che per circa due secoli è stata capitale di uno dei regni più potenti d'Europa, di una Napoli che ancora oggi però difende, vedi l'unione pizzeria storica e le centenarie, vedi personaggi come Giorgio Moffa che portano avanti anche al di fuori della cerchia della città la storia della pizza, l'emblema di questo prodotto. E quindi noi stamattina con Giorgio Moffa abbiamo potuto trasferire ai nostri ascoltatori il profumo di una specialità che odora ancora di buono. Però io vorrei che fosse appunto Giorgio Moffa a chiudere questa nostra puntata di questa mattina, questo nostro incontro con il grande Antonio Romano, invitando i ragazzi, ecco appunto si parlava di ragazzi, ad avvicinarsi a questa specialità. Molte volte si è detto che la pizza magari ha subito attacchi da altre tendenze eccetera. Però io trovo che in questo periodo i ragazzi non fanno altro che fare allungare sempre di più le file fuori alle pizzerie buone. Quindi io vorrei che Giorgio chiudesse questo nostro appuntamento appunto lanciando un invito ai ragazzi, alla Napoli buona all'insegna di questa sua fantastica e fiabbesca pizza. Sì, ma io a prescindere dai ragazzi che sono la continuità che verrà, io dico che la pizza quella di tradizione e che noi tutti conosciamo da piccoli e che quel profumo che veniva dai forni a legna non è mai e mai dovrà essere messa in discussione. Oggi sono le nuove tecniche come i forni a gas o i forni elettrici o prodotti con delle farine alternative. Io credo invece che la pizza è nata sempre con quel modo là, col profumo del pane, col bel pomodoro, col fior di latte fresco di aggerola. Noi dobbiamo salvaguardare quel prodotto. Poi quando vengono quelle contaminazioni di pizze diverse dove, ahimè, vedere dei ragazzi pizzaioli giovani che stendono la pizza come se fossero i disc jockey per noi è una ferita mortale. Quindi io dico perché l'unione pizzeria storica napoletana e le centenarie deve essere l'emblema di questa difesa perché noi veramente abbiamo visto un'epoca che è andata avanti però noi ne abbiamo difesa nella tradizione. Quindi come diceva Giuseppe, i ragazzi devono difenderla quella pizza come, ecco, prima parlavamo di Gennaro Luciano. Gennaro fa quelle pizze a portafoglio che sono uniche al mondo. Io quando andavo a scuola al Diaz nel 1978 fuggivamo tutti quanti nell'orario di spacca da Gennaro a Cmancipizze. Quindi questo devono salvaguardare i ragazzi, la tradizione, la storia perché la cultura della pizza deve rimanere un tesoro di Napoli. E benissimo, con queste due parole veramente abbiamo chiuso tutto. Voi mi hai fatto tornare indietro nel tempo quando da ragazzino studente, anche io marinavo la scuola spesso, devo dire, e stavo sempre a mangiare la pizza a portafoglio da Gennaro. E quindi ecco, è la storia che si deve sempre ripetere migliorando e non peggiorando le condizioni che hanno fatto sì che questo prodotto diventasse il prodotto più famoso e più apprezzato al mondo. Grazie a Peppe Giorgio di essere stato qui con noi. Grazie a voi tutti, grazie. Grazie a Giorgio Moffa per la sua testimonianza, importantissima. Grazie a voi di avermi ospitato. Alla prossima occasione, ciao a tutti da Antonio Romano. Grazie a tutti.